Il pubblico si deve aspettare qualcosa assolutamente di nuovo, si sta creando qualcosa di nuovo, di diverso dal solito. E noi adesso è il 10, iniziamo le prove e la cosa bella è che insieme creeremo questo spettacolo, tutti insieme, gli attori, i ballerini, il regista, i scrittori, la band, quindi questa è forse la cosa più bella e unica rispetto agli altri spettacoli che almeno io ho visto o vissuto. Cioè il creare uno spettacolo da zero, tutti insieme, per rispettare lui, perché Pino c'è, questo lo sappiamo e siamo sicuri, quindi creeremo questa cosa unica e vi aspettiamo, non mancate!